Se il novecento è il secolo delle persecuzioni più feroci e spietate, non sarà facile ricostruire le storie di milioni di cristiani che hanno sparso il loro sangue nel mondo, ma la memoria di almeno 23 di loro non cadrà più nell'oblio, ha deciso Francesco firmando ieri i decreti della congregazione per le cause dei santi. Siccome furono uccisi in odio alla fede, come si dice nelle carte dei processi, saranno presto proclamati martiri. C'è lo statunitense padre Stanley Francesco Rotter, missionario in Guatemala tra i Tuzuhil, discendenti degli antichi Maya, tradusse persino Nuovo Testamento emessale nella loro lingua e soprattutto si oppose a violenza e sfruttamento dei poveri indigeni durante la sanguinosa guerra civile con le guerriglie e ribelli. Perciò gli squadroni della morte del regime militare lo uccisero nell'81 a 46 anni, dopo che aveva rinunciato a lasciare il Guatemala e sfuggire così le ricorrenti minacce di morte. Una storia con molte analogie con Monsignor Romero del vicino El Salvador, proclamato martire l'anno scorso per decisione sempre di Francesco. Padre Vicente, che era allora, e venti suoi compagni e sacerdoti religiosi e laici si aggiungeranno presto anch'essi al lungo elenco di martiri della guerra civile in Spagna negli anni 30. Infine c'è il lituano Teofilo Matulionis, vescovo di Caesia Doris, che conobbe prigionia e deportazione in Siberia e morì assassinato nel 62. Solo nell'omantuno, con la caduta del comunismo, quella di Ocesi ebbe un nuovo vescovo. Oltre ai decreti di martirio c'è anche il miracolo attribuito all'intercessione di Giovanni Schiavo, zelante sacerdote Giuseppino Veneto, morto missionario in Brasile nel 67. Infine le virtù eroiche di Guglielmo Massaia, cappuccino vissuto nell'Ottocento, straordinaria figura di missionario in Etiopia, dove tra i tanti suoi meriti spicca la lotta alle epidemie di Baiolo tra le popolazioni locali.